E' cominciato il primo corso ASCO Aglio in Italia sulla ricerca clinica, perché è importante? E' importante perché l'ASCO è la società americana di oncologia, la società più importante al mondo per la ricerca di oncologia e per l'oncologia medica in genere, perché per la prima volta ASCO e i suoi rappresentanti sono qui in Italia, qui a Roma, in questa città, con cento colleghi che vengono da tutto il mondo a partecipare a questo corso di altissimo ideo scientifico sulla ricerca clinica, su tutte le problematiche della ricerca, in un momento in cui la ricerca clinica in Italia deve avere uno sviluppo, il ministro Schillaci ha firmato il nuovo regolamento europeo, vuole dare un impulso e lo dà insieme agli americani, che sono per tutto il mondo scientifico, oncologico e non solo una specie di faro nella ricerca clinica. Un link sempre più forte fra Aglio e ASCO nell'ambito delle cinquantenali di Aglio? Sì, l'avevamo deciso all'inizio del mio mandato, è un link importante con i colleghi americani, abbiamo avuto il saluto del presidente di ASCO, Eric Ryan, che oltre ad essere un grande presidente è anche un amico personale di chi vi sta parlando, faremo il link anche con le società di oncologia medica dell'America Latina, ma questo è uno spoiler di cui parleremo a lungo, continuiamo a lavorare insieme a ESMO. IOM è la realtà oncologica più importante europea anche come uno dei soci, quest'anno che è stretto i suoi 50 anni, abbiamo quasi raggiunto i 3.000 soci ed è bello fare questo insieme alle società sorelle di tutto il mondo. A presto!